Salve a tutti ragazzi, qui è la vostra scarda appena finita Napoli-Barcellona e devo dire che non mi posso definire né triste né felice perché questo è un risultato che Napoli non ha perso, non ha vinto, ha pregiato uno a uno ovviamente però non è che siamo proprio messi bene perché a ritorno questi qua in casa loro fanno paura, basta vedere gli ultimi risultati negli ultimi tre anni che hanno vinto 3 a 0 contro il Liverpool, 4 a 1 contro la Roma, 6 a 1 contro il Paris Saint Germain e quindi la vedo davvero molto dura, più che altro mi ruote il culo perché questi qua come fanno paura in casa facevano ridere fuori casa perché sempre gli ultimi risultati degli ultimi anni perdono 4 a 0 contro il Liverpool, perdono 3 a 0 contro la Roma, perdono 4 a 0 contro il Paris Saint Germain e quindi Napoli poi è l'unica squadra che va a fare non 2 a 0, non 1 a 0 ma va addirittura a pareggiare 1 a 1 anche se comunque era un po' diversa la situazione, era un po' diversa, il Barcellona non era addormentato come quelle partite che ha perso il Barcellona ha fatto la sua partita, ha fatto il suo possesso palla, ha giocatori esperti su questo la sua Sergio Busquets che non sbaglia un passaggio, Rakitic che non sbaglia un passaggio quindi sono esperti, soprattutto sono giocatori che ormai fanno da anni e anni la Champions quindi pure se sono pressati non sentono, hanno comunque la calma, sono freddi e quindi Barcellona a palleggiarci in faccia non aveva problemi ma palleggia in faccia a Napoli come palleggia in faccia a tutto il resto delle squadre d'Europa soltanto che il Napoli è stato intelligente, è stato intelligente, ha saputo mantenere le posizioni giuste in modo tale che l'unica cosa che poteva fare il Barcellona era palleggiare e in questo caso il palleggio tuo te lo metti diritto diritto nel culo perché hanno fatto un tiro in porta questi qua, un tiro in porta non mi potete nemmeno venire a dire che il Barcellona ha dominato perché ha dominato il cazzo che avete cacato, ha dominato il Barcellona perché un tiro in porta hanno fatto, ha fatto più tiri in porta il Napoli penso poi il resto dei tiri che erano in porta sono stati deviati e quindi questo è, c'è che il Napoli trova il vantaggio con un grandissimo gol di Trismertens ed è 1-0 il secondo tempo dopo una partita tutta concentrata basta un calo di concentrazione il Barcellona disegna, fa 1-1 poi il resto della partita non succede niente di che, è equilibrata succede quel grandissimo episodio che vi dà quanto godo quanto godo che Vidal è stato espulso ragazzi mamma mia quanto lo schifo a quel coglione quanto lo schifo mamma mia non stai nella Juve Vidal se è stato espulso Vidal te lo meritavi ma come quello fa la scivolata a Mario Rui tra l'altro fa la troppa piezza e merda scivolate, facendo solo scivolata la scivolata a Mario Rui tu fai fallo poi che fai mandi pure Mario Rui a fanculo come se non doveva cadere a terra tu hai pigliato sulla IS lo mandi a fanculo quindi Mario Rui giustamente giustamente pure se può essere contro il fair play io dico giustamente e lo penserò sempre che è giusto quello che ha fatto Mario Rui c'è Van Gould un fenomeno grandissimo Mario Rui solo per questo ti amo e ti do un 10 questa partita solo per questo e quindi c'è Van Gould e poi Vidal continua a fochere e viene espulso e te lo meriti godo, godo ma a ritorno non ci sarà a ritorno un giocatore fondamentale come Vidal non potranno sostituirlo così come non ci sarà nemmeno quell'altro macellaio di Sergio Busquets che ci ha fatto male il giocatore più importante il giocatore più importante era per quella partita ovvero Dries Mertens ce l'ha fatto male perché è un macellaio di merda è un macellaio ma che entri così dai ma che schifo mamma mia quindi siamo stati sfortunati che poi si fa male Mertens e entra Milik che è Milik con tutto il rispetto ma non è Mertens ha toccato infatti Minopal anche se ha fatto bellissime cose tipo l'assista a Caglieon 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 tira di prima perché se stoppi se stai vicino alla porta e la stoppi il tempo di stoppare il portiere già ti ha coperto tutto lo specchio soprattutto se stiamo parlando di un portiere come Ter Stegen che è un campione tira di prima dove va la palla ma ci sono sicuramente più possibilità di segnare piuttosto di stoppare e tirare dopo perché ovviamente Ter Stegen ti copre tutto lo specchio e tu che la tiri addosso comunque poi grandissima partita di Maximovic e Manolas stessa cosa Mario Rui di Lorenzo un po' di alti e bassi Fabian pure è stato sufficiente come Zidischi ovviamente più che sufficiente Mertens il problema ragazzi è stata la panchina perché noi abbiamo fatto due sostituzioni Politano e Allan che Politano non tanto ma Allan ragazzi ma come cazzo è entrato giocava per il Barcellona Allan ragazzi ma dai ma di che parliamo ha sbagliato di tutto ha sbagliato dai adesso aiuto dobbiamo crederci ovviamente sempre per il ritorno sempre meglio di non perdere perché comunque vi voglio ricordare che un Napoli di tre anni fa quello di Napoli-Real Madrid perdeva 3-1 fuori casa e 3-1 in casa almeno noi non abbiamo perso abbiamo fatto una figura abbastanza bella speriamo bene ragazzi anche se è dura dai ragazzi grazie a tutti